Sapevi che la nonnina nella vita reale ha trascorso un mese al fianco di persone affette da demenza senile per poter interpretare al meglio questo personaggio? Ti racconto qualche interessante curiosità su Serpil Tamur. E fidati, ti conviene aspettare fino alla fine per sentire l'ultima. L'attrice di Terramara non è nata in Turchia, bensì in Grecia, il 19 maggio del 1944, quindi è del toro e a breve compirà 80 anni. Per interpretare il ruolo di Azize ha trascorso un mese accanto a persone affette da demenza senile ed alzheimer. In particolar modo ha studiato attentamente i comportamenti di una donna che sembrava proprio la nonnina. È sposata da ben 53 anni, tanto che lei ed il marito sono stati citati in un libro turco in cui si parla di coppie longeve. E tu che cosa ne pensi di questa attrice? Ti piace? Dicci la tua nei commenti e se ti va,